Ed è il momento della nostra rubrica Occhio di Bue, parliamo ancora del Carnevale di Putignano e poi della rassegna di danza contemporanea in scena a Bari, Enzo Quarto. E al suon di Piffonella un saluto da Farinella. E a chi è vicino o a chi è lontano venga il Carnevale di Putignano. Quest'anno il Carnevale ai mostri è dedicato e ciascuno tragga il suo significato. Per esempio, la vita è bella, si sa, ma talvolta è turmata da tannuna e mostruosità. Il Carnevale è una festa dove non importa chi tu sia, ci vuol solo un po' di colore e un pizzico di follia. Parole singh e singh vuol puttatura a far gare.